Musica Professoressa Cettina Militello, teologa, direttrice della Cattedra Donna e Cristianesimo alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, membro del direttivo della Pontificia Accademia Mariologica Internazionale, una laurea in teologia, una laurea in filosofia. Lei come si presenterebbe? Come Cettina, molto semplicemente. D'altra parte è così che mi chiamano, è così che mi riconoscono. Partiamo dalle donne. Lei, abbiamo detto in apertura, è direttrice della Cattedra Donna e Cristianesimo. Qual è stato, qual è e quale dovrebbe essere, secondo lei, il ruolo della donna nella Chiesa? Il ruolo della donna nella Chiesa dovrebbe essere esattamente lo stesso di quello degli uomini. Perché Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza e non ha detto le donne fanno questo, gli uomini fanno quest'altro. Sono stati gli uomini a decidere cosa dovevano fare le donne. Allora io credo che la più grande conversione che la Chiesa debba fare è proprio quello di ritornare al principio. Il principio è fatto di reciprocità e di collaborazione. Lo stesso compito ricevono uomini e donne. Paradossalmente è stato Giovanni Paolo II nella lettera alle donne alla vigilia della conferenza internazionale di Pechino a riconoscere che anche le donne producono cultura perché anche loro hanno ricevuto il compito di coltivare la terra. Capisco che detto così può sembrare tutto e può sembrare niente. Beh, diciamo che nel mio piccolo mi sono impegnata perché le donne contassero. Ho avuto di positivo la stagione del Vaticano II senza la quale non avrei mai e poi mai potuto studiare teologia. È una volta che studiavo teologia, opportunità contestuali mi hanno portata a insegnarla. L'ho insegnata per quasi, anzi per più di 40 anni. Adesso ho sospeso l'insegnamento, mi rimane soltanto questo piccolo impegno presso la Facoltà Teologica Marianumo. Esiste una questione femminile nella Chiesa senza dubbio, no? Le donne emergono però nei percorsi di santità come modelli mentre faticano nei percorsi istituzionali se vogliamo chiamarli così. Allora, al di là della valenza delle donne canonizzate e dei modelli che soggiacciono, sì c'è la fatica della presenza istituzionale. Quando le donne hanno contato istituzionalmente è stato per via carismatica. Che so, penso a Caterina da Siena, a Brigida di Svezia, persone che veramente hanno interlocuito con i pontefici, hanno anche ottenuto, sia pure per breve tempo, delle risposte esaurienti. L'istituzione è maschile, è patriarcale. Se non ci si converte, non si abbandona il modello patriarcale, la Chiesa non sarà Chiesa perché vede il problema, non è le donne. Il problema è che la Chiesa sia autentica, che la Chiesa sia evangelica. Noi abbiamo centrato tutto sui dodici alla sequela, però un libro recente mette in evidenza dodici donne alla sequela. Cioè non si possono fare queste operazioni selettive per cui, per esempio, abbiamo scoperto le matriarche l'altro ieri, mentre le matriarche come i patriarchi sono state importantissime nella storia di Israele, Maria di Magdala e tante altre. La stessa Maria di Nazareth l'abbiamo usata come modello di remessività e di silenzio, mentre Maria di Nazareth è quella sulla cui bocca Luca Posto e Magnificat, che è proprio un discorso, come devo dire, addomesticato, non è, ma anzi è un discorso assolutamente rivoluzionario e controcorrente. Rimaniamo nell'universo femminile, però andiamo indietro di parecchi anni. Andiamo al movimento femminista, che tutti ovviamente inquadrano in una cornice laica, che però ha avuto una sua voce anche nella Chiesa. Esiste una teologia femminile, lei ci insegna? Allora, prima ancora di parlare di una teologia femminile, al femminile o femminista, bisogna ricordare che il movimento femminista ha avuto protagoniste donne credenti. Cioè le donne, le femministe della prima ora, quelle della prima metà dell'Ottocento, scusi, della seconda metà dell'Ottocento, erano donne credenti. La cosiddetta Bibbia delle donne è stato il prodotto del primo tentativo di rilettura da parte delle donne di quella che era l'impostazione patriarcale. L'associazione, l'alleanza Giovanna d'Arco, è nata nel 1911 nel contesto del suffragismo. Questo per dire che non è soltanto un movimento politico, quello del femminismo storico, ma è un movimento nel quale non credenti sono state in prima fila sin dall'origine. Mentre per quanto riguarda la teologia, le donne l'hanno sempre prodotta, perché in ogni epoca noi abbiamo una produttività teologica delle donne, più o meno significativa. Nel Medioevo ci sono le grandi madri, le grandi teologhe, le grandi mistiche, quelle la cui teologia abbiamo riscoperto di recente, che approfondiamo e studiamo, e credenti e laici, pensi a una Margherita Porete, che viene studiata tanto dal punto di vista teologico e dal punto di vista del femminismo filosofico. La differenza nel Novecento sta nel fatto che le donne hanno avuto accesso all'università e poi pian piano hanno avuto accesso anche alla facoltà di teologia. Nel momento in cui la teologia è diventata accademica e le donne sono state soggette di teologia accademica, il loro fare teologia ha evidentemente cambiato spessore. Secondo me la teologia delle donne è la novità più grande del XX secolo. Io penso che tanti scritti di teologi maschi passeranno, ma la rivoluzione, il modo nuovo di leggere la Bibbia, il nuovo modo di leggere i padri, il nuovo modo di leggere la storia del Domma, il nuovo modo di leggere la storia della Chiesa, il nuovo modo di pensare ai trattati, questo è qualcosa che le donne stanno producendo, vabbè gli uomini fanno finta di non vederlo, non dappertutto perché ci sono paesi nei quali i teologi stanno attenti a quello che dicono le teologhe. Diciamo che in Italia questa abitudine non c'è, si tende a sottovalutare, però è una grossa novità. Nei pensi soltanto allo sforzo sistematico di una Elizabeth Johnson, la quale ha scritto un libro di teologia trinitaria titolato Colei che è, nel quale ha proprio smantellato l'idea patriarcale di Dio. Ha scritto la stessa, un libro di ecclesiologia, nel quale prevale la dimensione comunitaria e profetica, amici di Dio e profeti. La stessa ha scritto un libro su Maria, veramente a nostra sorella, che affronta il mito di Maria con termini completamente diversi. Sulla distanza tutto questo produrrà frutto. Io per la mia parte ho cercato di dare un mio contributo. Paradossalmente sono quella della teologia al femminile più che quello che sono stata, una teologa sistematica, perché il cuore della mia riflessione è l'ecclesiologia. La cosa di cui sono più fiera è la chiesa, il corpo crismato, il manuale che ho scritto, quasi a consultivo dei miei 40 anni di insegnamento dell'ecclesiologia. Tempo fa ci siamo incontrate e in una nostra conversazione mi ha colpito, parlavamo appunto del movimento femminista, parlavamo anche di occasioni mancate anche in quelle istanze. E mi ha colpito molto un passaggio di una sua riflessione in cui lei diceva c'è stato un problema di omologazione, perché il punto non era essere come gli uomini, ma contare in quanto donne. Sì, sono convinta. Purtroppo il femminismo ha peccato di ugualitarismo. C'è stato un momento in cui sembrava che la panacea fosse fare tutto quello che gli uomini facevano. E questo, secondo me, non ha prodotto. E di fatti la battaglia non è per fare quello che fanno gli uomini come lo fanno, cioè è per fare quello che fanno gli uomini, ma non come lo fanno gli uomini. Penso che ciascuna persona è differente dall'altra e penso che da donne abbiamo da dare un contributo che è nostro particolare, ma non è il contributo della tenerezza, dell'affabilità, dell'obblatività, bla bla. Tutte queste cose che veramente sono, come devo dire, spreggevoli perché dividono l'umanità in due caste contrapposte. Quella che ha il genio, l'intelligenza, la ragione, è quella che invece serve soltanto a mettere i pannicelli caldi per stemperare il dolore. Per carità, importantissimo stemperare il dolore umano, però col cervello. Continuiamo la nostra chiacchierata sulle donne e la chiesa, sulle donne e la società. Rispetto alle donne c'è un triste fenomeno che non possiamo non osservare, che è quello del femminicidio. Abbiamo parlato del movimento femminista, abbiamo parlato dell'emancipazione delle donne. Secondo lei, alla base di questo fenomeno e di questo dramma, c'è ancora un'incapacità di accettare l'emancipazione della donna? Sicuramente. Questo è il colpo di coda di un macismo che sta in tasca a scomparire come fenomeno culturale. Noi ci illudiamo tanto di aver raggiunto livelli di parità. In realtà la cultura è molto lenta nel metabolizzare. Cioè non basta che ci siano delle leggi, non basta che ci siano delle opportunità. Dentro di noi stanno stereotipi, stanno modelli che sono ancestrali. E allora di fronte a queste cose l'incapacità maschile di accettare la nuova identità femminile esplode con queste forme di violenza che peraltro ci sono sempre state. Solo che una volta era nel diritto del maschio fare della propria donna quello che voleva, nel bene e nel male. Oggi noi sappiamo che tutto questo non è più possibile ma vai a toglierlo da testa dopo 8 mila anni di patriarcato che le donne sono semplicemente un oggetto che io posso trattare a mio piacimento, un mio possesso. Tra l'altro c'è sotto un'idea sbagliatissima dei rapporti umani perché io non possiedo una persona. Lei pensi semplicemente al dato sessuale pensato come possedere qualcuno, come faccio a possedere qualcuno. L'alterità può entrare in dialogo con me. Posso riconoscerla, posso gioirne, ma non posso possederla. Sono veramente concetti deviati. Certo la formazione, l'istruzione, secondo me la Chiesa non ha fatto abbastanza anche da questo punto di vista. E lì entriamo nel problema della formazione che riguarda tutti i fedeli e in particolare riguarda i chierici, visto che i chierici continuiamo a sceglierli rigorosamente maschi e chiediamo loro una vita rigorosamente celibre. Lei, lo ricordavamo in apertura, è membro del direttivo della Pontificia Accademia Mariologica Internazionale, afferma di guardare a Maria con solidarietà femminile. Che significa? Significa questo che come tanti altri della mia generazione io ho studiato durante quello che si chiamava il periodo del gelo mariano, cioè di Maria non si parlava proprio, anzi si diceva satis satis, basta basta, cambiamo discorso. Quindi non avrei mai pensato di insegnare Mariologia. A un certo punto però nella mia facoltà la Mariologia faceva parte dell'Ecclesiologia e io insegnavo Ecclesiologia e ho dovuto dunque dedicare delle ore a Maria. E mi sono ressa conto come hanno detto poi le femministe o come avevano detto prima le femministe che la prima persona da liberare era proprio Maria, bisognava liberarla dal cliché. Allora per quello che mi riguarda è scattata questa molla di solidarietà per cui togliamole, come diceva Don Tonino Bello, il diadema non per offenderla ma per guardare meglio la sua bellezza. Maria è una creatura che è stata veramente trattata molto male da un clero che se ne è fatto strumento per sanzionare la sua potenza e per esercitarla sul popolo cristiano. Mentre Maria è una creatura che canta un inno di libertà, un inno di solidarietà e che dunque va riconosciuta in questo messaggio, non in questa visione oblativa, riduttiva di ripiegamento sul figlio. Beh, bisogna dire che però proprio alla fine del giorno mariano Paolo VI scrisse quella bellissima Maria Iscultus nella quale cercò di mettere i puttili sugli... Ma è difficile passare dalla teoria alla pratica. Molto, molto difficile. Cito una sua frase. La città post-moderna avrà molto da guadagnare se nei confronti delle nuove alterità che intrecciano la nostra storia farà tesoro dei percorsi delle donne. A quali alterità si riferiva? In quel momento mi riferivo al problema che abbiamo delle alterità multiculturali. Cioè noi andiamo verso un mondo multiculturale, è inutile che ci illudiamo. Possiamo urlare come bambini quanto vogliamo. Siamo primi ministri o siamo semplici cittadini. Possiamo pure ricorrere col fucile ad aeree compresse, eccetera. Il futuro è fatto di culture che si incrociano perché il mondo è diventato villaggio, come dicevamo più di venti anni fa. E allora il fatto che le donne siano state così attenti alla tessitura dei rapporti, che abbiano avuto sempre un ruolo di intermediazione, forse ci può aiutare ad aprirci all'altro senza pregiudizio, riconoscendolo per quello che è nella sua positività. Io penso per esempio che la solidarietà tra le donne potrà fare molto di più di quanto non facciano proclami, leggi coercitive. Naturalmente forse è un'utopia, ma io confido molto nell'apporto che le donne potranno portare per riequilibrare questo benedetto incontro di alterità che è la sfida della nostra umanità. D'altra parte noi partiamo da un mistero bellissimo che è quello utilitario. Il nostro Dio non è un Moloch, non è un Dio unico. Il nostro Dio è un Dio circolazione d'amore. Se come cristiani non riusciamo a tradurre nel nostro mondo questa amorosa circolazione che ha addirittura portato alla kenosi del figlio di Dio, che ci stiamo a fare? Abbiamo fallito. Quindi il problema è delle donne, ma il problema è anche di noi cristiani che disattendiamo così profondamente il mistero di un Dio che ci chiama comunione. Abbiamo parlato di quanto sia importante riconoscere il ruolo della donna, di quanto sia il valore aggiunto che la donna può portare nella Chiesa, nella società in generale. Una domanda che mi viene in mente adesso è, però, noi in quanto donne, che passi in più possiamo fare? Qual è il nostro... Cos'è che ci è mancato? Cos'è che ci manca? Allora, ci è mancato innanzitutto l'opportunità della cultura. È vero che le donne hanno elaborato una loro cultura sapiente, che era quella del tramandarsi di madre in figlia a determinati saperi che vanno dal quotidiano alla guarigione. Sì, c'è questa tradizione alternativa delle donne, c'è sempre stata. Però la cultura, nel senso di riconoscimento di titoli, di conoscenze compartite, questo è qualcosa che ci è mancato. Allora, per me, forse mi illudo, la formazione, lo studio, e parlo da cristiano, lo studio della teologia, può essere veramente una via risolutiva che prepara questo mondo nuovo nel quale ci si guarda, riconoscendosi fratelli, compagni, partner, tutto quello che vuole, che può essere espresso anche da parole similari. Io confido molto, e da questo punto di vista sono preoccupata per il nostro tempo, perché il nostro tempo sembra votato all'inculturazione, alla sguagliatezza, all'urlo. Mentre il problema è risolvere le cose con stile. Ecco, io penso che le donne possano proporre una lezione di stile. Certo, abbiamo anche donne sguagliate, donne, come devo dire, che non riescono sino in fondo ad esprimere la chance che è nascosta in ciascuna di loro. Ma se ci mettiamo di buona volontà, se ritorniamo veramente a capire qual è il valore della persona, il valore della diversità come tale, se riconosciamo l'altro come diverso e non pretendiamo di omologarlo, di renderlo necessariamente simile a noi, o di espungerlo, perché non è simile a noi, allora forse questo mondo cambierà. E come dicono le mie colleghe latinoamericane, avremo una tessitura di mille colori. Loro scherzano sui colori dell'arcobaleno, su questa tela che si intreccia mettendo insieme le culture, le aspettative, le soggettività, le realtà. Io vi compreso l'incontro uomo-donna, che è una delle perle nell'ambito della creazione. Pensi quanto sarebbe brutto o monotono il mondo se non ci fossimo uomini e donne a incontrarci e a scontrarci. In occasione del centenario della stigmatizzazione di Padre Pio da Pietrelcina, è intervenuta nel corso del convegno sulle stimmate di San Pio sul tema il messaggio di Padre Pio nella chiesa di Papa Francesco. Cosa ci dice, secondo lei, oggi la testimonianza di San Pio? Io ho preparato uno schema in cinque punti a suo tempo che faceva un po' il verso alle cinque piaghe della Santa Chiesa o alle cinque piaghe veramente di nostro Signore Gesù Cristo. È un po' difficile dire che cosa è il messaggio di Padre Pio. Difatti la relazione che io ho fatta non era il messaggio, ma era Padre Pio e la chiesa di Papa Francesco. Allora, ci sono punti di contatto splendidi, l'attenzione all'altro, la misericordia, la carne di Cristo sofferente, però ci sono anche punti di discontinuità perché Padre Pio rimane un uomo del preconcilio. E un'altra cosa molto intelligente è che Padre Pio rappresenta lo scontro tra l'istituzione e il carisma. È stato vittima di una chiesa che non ne ha riconosciuto il carisma. La chiesa di Papa Francesco è una chiesa più attenta al carisma. È, come lui dice, la chiesa del polietro. Secondo me è proprio il tema della misericordia, il tema della carne di Cristo sofferente che rappresentano i punti di maggiore questo tema della compassione, del posarsi sull'altro, che penso alla casa sollievo della sofferenza. Cioè, tutta una serie di iniziative che in pratica tentano di, non soltanto di accettare il dolore, ma di sanare il dolore. Perché Padre Pio, al grado di tutto, non ha una visione doloristica della vita. Perché se avesse avuto una visione doloristica non faceva l'ospedale, diceva soffri, prenditi la crocina. Invece no. Questo discorso della guarigione, secondo me, è molto intrigante. E questa chiesa, l'ospedale Aracampo, come la chiama Papa Francesco, è una chiesa che deve adoperarsi per la guarigione. Chiudiamo con un messaggio. Io approfitto della sua presenza qui per un invito, un messaggio, un augurio a tutte le donne che ci stanno guardando, mamme, nonne, ragazze, giovani, meno giovani. Che coltivino la cosiddetta tradizione delle donne, cioè che conservino memoria di tutto ciò che le nonne, le madri, le ave hanno fatto. E poi che studino, 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 non disprezzino lo studio, ma sappiano che la rivoluzione avverrà soltanto per consapevolezza. Grazie professoressa Militello, grazie per questa bellissima chiacchierata. Grazie a tutti.